Chi è? Ragazzi, sono laureato alla Bocconi! Ma ti ricordate, vi ricordate tutto? Insomma, devo dire grazie a tutti quelli che quando cammino per strada ancora mi riconoscono. Sono passati 38 anni ragazzi, grazie a te, grazie a voi e ciao, vado a prendere un caffè. Come è stata l'esperienza del drive-in? Beh, passata, diciamo che è passata. Però i migliori comici... Erano lì, poi da poco, come sapete, è mancato anche Gino, che è stato un grande nostro amico, che mi diceva, e questa è una filosofia da prendere fortemente, se quando finisci tutta questa giostra, si riferia chiaramente al drive-in, io mi prendo una bella barchetta e vado a mare e comincio a pescare. Hai capito? Au revoir! Ci dici solo che cosa ti emoziona, che cosa ti fa girare la testa e poi ci salutiamo. Un caffè, un caffè e lì è buonissimo. Pubblicità. Ragazzi, lo ringraziamo, sei stato semplicemente speciale. Grazie per tutta la bellezza che ci hai regalato. Ciao, ciao! Ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Giovanni Salli, ciao a tutti e alla prossima. 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 Grazie a tutti.